Potrebbe essere un nuovo caso Cucchi, quello di Enrico Lombardo, morto a 42 anni il 27 ottobre del 2019 a Spadafora, dopo essere stato fermato dai carabinieri intervenuti in seguito alla richiesta dell'ex compagna, che si sentiva minacciata dall'uomo. Secondo la famiglia, le associazioni a buon diritto, Amnesty e la stessa senatrice Ilaria Cucchi sembra proprio di sì. Ed è per questo motivo che contro l'archiviazione decisa dal GIP la famiglia ha presentato ricorso in Cassazione, il 23 giugno la quinta sezione dovrà esprimersi. Secondo i carabinieri, Lombardo quella notte accusò un malore durante le fasi del fermo, fasi molto concitate, riprese da un video. Due ambulanze del 118 intervennero, ma per Lombardo non ci fu nulla da fare. La procura della Repubblica di Messina ha aperto un'inchiesta con tre indagati, un carabiniere e i sanitari del 118, ma il GIP ha disposto l'archiviazione. Le foto fornite dalla famiglia però mostrano un corpo martoriato da echimosi, lesioni e ferite in tutte le parti del corpo. Era una maschera di sangue, ha detto l'avvocato della famiglia Piero Pollicino a Lanza, che per questo motivo ritiene necessarie ulteriori indagini, visto che ufficialmente l'uomo è morto per un infarto, provocato da un trauma cranico imponente. Non le vogliamo chiamare torture queste, ha sottolineato la senatrice Cucchi nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri. Associazioni e familiari, in particolare l'ex moglie di Enrico, Alessandra Galeani, hanno annunciato che in occasione del pronunciamento della Suprema Corte manifesteranno sotto la sede della Cassazione per chiedere di riaprire il caso ed avere giustizia e verità per Lombardo, perché non è possibile che un cittadino sotto la custodia dello Stato, dopo un fermo da parte dei carabinieri muoie in questo modo.